La Federazione Oncologi e Cardiologi italiana lancia un allarme che a fine anno c'è il rischio che si muoglie più di infarto che di Covid. Zaffiri? Ma questo era un problema che doveva emergere, doveva emergere perché effettivamente si chiudono gli ospedali. Questa è la drammaticità che ha portato il coronavirus. Siccome è mancata una programmazione per affrontare la seconda catastrofe che sta avvenendo in questo momento, allora oggi ancora una volta abbiamo pazienti, i pazienti purtroppo che non trovano più il loro letto, il loro posto per quanto riguarda un letto per cure intensive, perché è stato spostato per quanto riguarda il coronavirus. Questo è un vero problema, questo è un problema drammatico che sul territorio, su tutti i territori sta accadendo questo, però anche qui bisogna aprire un dibattito, un dibattito serio e coraggioso, capire quanti veramente sono i morti di coronavirus, punto. Poi bisogna capire in termini di numeri cosa sta succedendo tra i ammalati normali, perché noi non avevamo nemmeno ancora recuperato le lunghe file che si erano determinati nella prima pandemia, nel primo periodo di febbraio e marzo, non eravamo ancora in condizioni perché c'erano ancora molti pazienti da poter ancora recuperare per quanto riguarda gli interventi chirurgici, per quanto riguarda il problema oncologico, per quanto riguarda i tumori, per quanto riguarda tutto questo mondo talmente delicato che si rischia oggi che questi morti potrebbero superare il coronavirus. Questa è la drammaticità, ma ancora una volta siamo alla fine di novembre, teniamo la testa sotto la sabbia. Questa è la drammaticità della cosa, di non voler affrontare il vero problema per capire cosa effettivamente succede in questa pandemia. Perché se, come stanno gridando in queste ore, i specializzati o i specialisti di questo settore, per quanto riguarda il problema delle malattie tradizionali che gridano all'allarme, credo che effettivamente c'è un problema. Perciò io mando un messaggio, mando un messaggio all'assessore alla sanità di questa regione Marche. Del suo partito? Del mio partito, perché in questa regione Marche ci sono le capacità professionali, ci sono le capacità professionali per capire effettivamente com'è il fenomeno, come avviene. C'è soltanto problema da superare. Da superare questo non si capisce il perché, il Governo centrale ha messo un silenzio, un silenzio, un silenzio sopra questi poveri disgraziati che morono dal coronavirus. Lì bisogna capire, bisogna scoprire, bisogna scoprire purtroppo gli eventi, bisogna scoprire la tomba, come si dice nel gergo, per capire quanti effettivamente si morono, però in modo tale che il cittadino normale capisca e effettivamente sappia cosa sta succedendo. Perché ancora oggi noi non lo sappiamo cosa sta succedendo. Ha sensazione, io personalmente ho la sensazione che la drammaticità è molto forte per quanto riguarda il problema degli ammalati normali. Questa è una situazione difficile. Io credo che vada aperto questo dibattito anche da questa emittente e infatti a chi gestisce il direttore, al tecnici di questa emittente, di questa antenna, chiedo che si apra un dibattito. Perciò vada fatto il confronto con i specialisti oncologi, con i specialisti di cardiologia, con altri specialisti e naturalmente chiarire una volta per sempre quanto è il fenomeno di chi muore per quanto riguarda questo coronavirus. Altrimenti ci sono una serie di incertezze, una serie di difficoltà, ma non c'è la trasparenza. Anche qui purtroppo c'è un meccanismo omertoso che va superato per l'interesse della comunità, per l'interesse dei cittadini e per far sapere nel nostro regione Marche come effettivamente stanno le cose. Però in questo momento credo che l'allarme lanciato dai oncologi e dai cardiologi sia un allarme sacro santo perché nemmeno prima, come ho già detto, nella prima fase erano state smaltite tutto quello che era accaduto per quanto precedentemente ci ha colpito.